Non so cosa dirvi, davvero. Tre minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta uno schema dopo l'altro fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Vedete? E possiamo rimanerci e farci prendere a schiaffi. Oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. Ma io non posso farlo per voi. Sono troppo vecchio. Mi guardo intorno, vedo i vostri giovani volti e penso Certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezz'età possa fare. Sì, perché io ho sperperato tutti i miei soldi che ci caricate l'uomo. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene e da qualche anno a questa parte mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Sapete, col tempo, con l'età tante cose ci vengono tolte ma questo fa fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. e scopri che la vita è un gioco di centimetri e così è il football. Perché in entrambi questi giochi la vita e il football il margine d'errore è ridottissimo. Capitolo? Mezzo passo fatto un po' in anticipo, ritardo e poi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloce, troppo lente e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto. Sono intorno a noi. Ce ne sono ad ogni break della partita ad ogni minuto, ad ogni secondo. In questa squadra si combatte per un centimetro. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza tra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa se in ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste. E in quei dieci centimetri davanti la faccia. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che vedo a fianco, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevoli del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo nientati individualmente. E' il football, ragazzi. E' tutto qui. Allora che cosa volete fare? Che cosa volete fare? Grazie a tutti.